Tornano in questo weekend le giornate del FAI e come si sviluppano nella nostra città qua a Fano? Allora, quest'anno abbiamo un'apertura eccezionale perché apriamo Palazzo Castracane, un palazzo bellissimo che è stato costruito dal fine 400 e primi del 500 e le caratteristiche di questo palazzo rimangono coeve all'epoca solo nella facciata, all'interno poi in periodo rinascimentale è stato fatto delle trasformazioni e per cui insomma è quello che noi vediamo attualmente. Quante classi e quanti studenti sono coinvolti? Quest'anno abbiamo dovuto cercare di ridurre il numero perché l'apertura è una sola ed è un palazzo per cui sono 120 ragazzi che sono delle scuole medie e i licei di Fano. L'ingresso è gratuito oppure a pagamento? Ecco, l'ingresso è gratuito ma siccome i proventi delle iniziative che il FAI fa servono per mantenere in eccellenza tutti i beni che abbiamo, che sono 71 in tutto il territorio, allora chiediamo un contributo di 3 euro che può essere aumentato volendo e poi soprattutto puntiamo sulle iscrizioni e su rinnovi e su donazioni. Il palazzo sarà aperto in tutte e tre le giornate? Venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18 e 30 è aperto insieme alla Biblioteca Federiciana solo per gli iscritti. Sabato mattina è anche aperta la Biblioteca Federiciana e Palazzo Castarcane naturalmente dalle 10 alle 12 e 30 e il pomeriggio dalle 15 alle 18 e 30, però il sabato pomeriggio, la domenica mattina e pomeriggio solo Palazzo Castarcane. Dove è possibile avere tutte le informazioni? Sul sito giornatefai-di-primavera.it Grazie a tutti.